Si comincia a fare chiarezza sui responsabili. Perché ha deciso di eliminare all'ultimo momento quella famosa seconda domanda? Non l'ho deciso io, questa è una cosa che hanno deciso i miei autori perché avevano dei sospetti. Sospetti su chi? Su una persona. Un nome in testa Mara Veniccelà, ma naturalmente non lo può rivelare fino a quando l'inchiesta non sarà conclusa. Le indagini condotte dalla Digos sono avvolte da riservo. Nel tentativo di truffa sarebbero coinvolte tre persone. Marco, il falso concorrente che ha telefonato a Domenica Inn puntando i 100 milioni in paio, e altri due uomini. Non sono stati resi noti i nomi, ma da indiscrezioni sembra che uno di loro sia un rappresentante di intendenza di finanza. La terza persona sarebbe un sedicente commercialista. Ai tre verrebbe contestato il reato di concorso in truffa. Paolo De Andreis, il produttore della trasmissione, ha dichiarato che sospettava la truffa da oltre un mese, da quando cioè un concorrente vinse 80 milioni rispondendo a domande difficilissime. La RAI si costituirà parte civile. In una nota l'azienda conferma che i giochi con premi sono controllati dall'intendenza di finanza. E auspica che le indagini chiariscano... ...che ha telefonato dando la risposta incriminata. Sarebbero questi appunto i principali responsabili. Ma la vicenda non finisce qui. E intanto i quiz che fine faranno? E' lui, l'uomo coi baffi, il microfono in mano, Umberto Baldini, 57 anni, l'intendente di finanza chiamato dalla RAI a controllare l'andamento corretto del quiz incriminato. Lui, la talpa, che insieme ad altre due persone pensava di spartirsi i soldi del quiz di domenica in. Un bel bottino, 100 milioni. Guardatelo, nel momento della telefonata sotto accusa, l'aria sgomenta, non riesce a credere che la sua truffa sia stata scoperta così, in diretta, davanti a milioni di persone. E sentitelo, mentre il suo complice al telefono, Marco Mastroianni, cade nell'inganno che gli autori di Domenica Ine gli hanno teso. Ma annulliamo la... No, siamo in diretta, per cui poi se ne riparla, ma c'è qualcosa, lui ha detto il nome della seconda domanda e io la domanda non l'ho fatta. Scusami, comunque ha sbagliato. Comunque ha sbagliato. Le indagini sul gioco truffa non si fermano qui, i sospetti che il quiz fosse in qualche modo manipolato risalgono al 9 marzo scorso. Per questo gli inquirenti hanno chiesto le liste con i nomi di tutti i vincitori del gioco e non si escludono altre sorprese. Anche perché il vero ideatore dell'imbroglio è un commercialista di Roma che si è reso irreperibile e che potrebbe essere coinvolto in altre truffe. Ma i telequizze, come ha chiesto il presidente della RAI siciliano, saranno momentaneamente sospesi? A noi non hanno comunicato nulla, avvertono gli autori di Mara Venier. Domenica, salvo controordini, il gioco milionario andrà regolarmente in onda. TG, a domenica prossima, a domenica prossima. Per il funzionario inquisito adesso c'è una donna. Vediamo un po' com'è andata con Michela Garbini. Signori, buoni silenzio, grazie. Clima teso, sguardi severi, la voglia di ricominciare. Tutto è pronto per dare inizio a una nuova stagione di Domenica Inn. Soltanto una settimana fa Mara Venier svelava in diretta che il gioco a quiz era truccato. Un finto concorrente, un garante dei giochi autori dell'imbroglio, alcuni complici. Sono molto dispiaciuta, molto, di quello che è accaduto. E' l'ultimo anno che farò domenica Inn, poi chissà magari per qualche anno ritornerò. E non avrei mai voluto finire con questa cosa che mi riempie di rabbia, ma anche di tanta malinconia. Al posto di Umberto Baldini, il funzionario delle finanze corrotto, è arrivata una donna, Vincenza Ardito. 26 anni di carriera alle spalle. A lei è affidato il compito più difficile, ridare fiducia ai telespettatori. La scelta dei numeri di telefono è avvenuta a sorte, davvero stavolta. E l'elenco dei telespettatori da chiamare è contenuto in una busta sigillata. Un momento particolare mi rendo conto che bisogna ritare, mantenere e dare alle persone la fiducia che deve essere data alle istituzioni. Dopo la tensione dei primi momenti, torna poco alla volta il buon umore. E per la cronaca, stasera il gioco a quiz.